In piena campagna elettorale è giunta la notizia che il Ministero ha definitivamente revocato al Comune di Fano il finanziamento dei 20 milioni, concordato tra Regione e Comune per agevolare il collegamento viario tra Fano e Pesaro. Il Comune non è riuscito ad affidare i lavori entro i tempi stabiliti, un'incapacità che è stata commentata criticamente dal candidato sindaco del centrodestra Luca Serfilippi. Oggi purtroppo è il triste epilogo di una vicenda che va avanti da più di cinque anni, che dimostra la totale inadeguatezza di questa amministrazione, in particolar modo del vice sindaco Fanesi che ha sempre seguito tutto questo iter. Un iter partito, perché bisogna dire le cose come stanno, da Renato Claudio Minardi che è segretario del Partito Democratico, che aveva barattato l'ospedale Santa Croce per la realizzazione dell'ospedale unico a Pesaro in cambio dei famosi 20 milioni della variante Gimarra. Progetto nato male con conti sbagliati dal primo giorno, modificato nel corso di questi anni, che ha visto una maggioranza deflagrare su questa opera perché era divisiva allo proprio interno e che oggi vede di fatto l'epilogo che si aspettavano, ovvero il definanziamento dei 20 milioni. Però io penso, visto che comunque ci candidiamo ad amministrare questa città, che Fano non ha mai perso in tutti questi anni un finanziamento così importante di 20 milioni. Quindi dimostra l'inadeguatezza di chi ha gestito tutta questa vicenda. Non so se anche stavolta vorranno darmi la colpa, perché è sempre colpa di Sir Filippi anche delle cose che non ho gestito io. Anzi, da parte nostra come Regione c'è sempre stata la disponibilità a spostare quest'opera, questi 20 milioni, su un'altra opera, ovvero Fano Sud. Ma da parte del Comune di Fano, in particolar modo del Partito Democratico, c'è stata sempre la volontà di non spostare i 20 milioni. 20 milioni che non sarebbero bastati perché il Comune si doveva indebitare con altri 5-6 milioni di euro per completare l'opera. Le buste non sono mai state aperte proprio per tutelare il Comune di Fano. C'è un dato di fatto che il Comune di Fano dovrà restituire domani con un debito fuori bilancio 500 mila euro, ovvero i soldi della progettazione che sono stati spesi in questi anni. Ecco, io mi chiedo con che faccia qualcuno si candida a sindaco della nostra città e si intesti la perdita di 20 milioni di euro e 500 mila euro di debiti fuori bilancio. Qual è la vostra soluzione per i collegamenti con Pesaro? Noi siamo a favore naturalmente del casellino di Fano Nord e di Pesaro Sud che andranno a snellire la statale 16 Adriatica. Siamo a favore di una bypass, ovvero della realizzazione di una variante a fianco dell'attuale sedime autostradale, proprio la strada che hanno utilizzato i cantonieri. E come Regione Marche abbiamo già messo 50 milioni di euro per realizzare la variante Sud di Fano Sud. Sarà possibile recuperare questi soldi per Fano Sud? Vi attiverete per questo? Io penso che oggi di fatto Fano perde 20 milioni di euro. Dovremo ragionare con la Regione e il Governo per far sì che altri investimenti di cui la nostra città necessita vengono inseriti nella prossima programmazione del CIPES. C'è da dire che la responsabilità di tutto è del vice sindaco Fanesi e mi chiedo, Renato Claudio Minardi, che cosa ne pensi del proprio vice sindaco e assessore che ha gestito tutta questa partita e che di fatto gli ha fatto deflagrare l'investimento più importante che Fano abbia mai avuto. Grazie. 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 Grazie.